se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi le completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video bella regà e benvenuto perché è nuovo nel canale oggi god modd in 10 secondi facilissima con 0 requisiti iniziamo con il glitch bisogna essere solo un pochettino di luce requisiti ragazzi non ce ne sono l'unica cosa che vi devo chiedere è perdonatemi della mia voce perché sono senza voce quindi ragazzi ci dirigiamo in un qualsiasi negozio di vestiti e ci mettiamo qua davanti al bancone a questo punto andiamo a partecipare 3 o 4 volte da una persona che sta in mira manuale accettiamo il primo messaggio e rifiutiamo il secondo messaggio facendo questa cosa andremo a velocizzare i caricamenti di recupero una volta fatto ciò ragazzi possiamo pure iniziare con il glitch apriamo il menu interazione ragazzi ci uccidiamo partecipiamo sul ragazzo che sta in mira differente e rifiutiamo questo messaggio spammiamo freccia destra e il risultato sarà questo e sbada bam saremo in god mod facile veloce e la cosa più bella che possiamo chiamare tutto veicoli ci possiamo spostare a piedi macchina possiamo fare quello che vogliamo io spero che questo video vi sia piaciuto che vi sia stato d'aiuto lasciate un like se vi è piaciuto commentate condividete iscrivetevi attivate la campanellina che non vi costa un cazzo mettere quel pollicione e schiacciare attiva la campanellina e iscriversi al canale ragazzi e adesso alla prossima spada bam